Sono Mara Di Teodoro, docente dell'Istituto Comprensivo Satale Fratelli Cervi di Roma. Siamo qui al Fab Lab per vedere come potremo noi utilizzare software e anche stampanti che faranno parte della palestra digitale di cui verremo dotati. La nostra sede di Corviale sarà dotata di tutta questa strumentazione e quindi sarebbe bello capire fin d'ora come potremmo utilizzarla con i ragazzi, quindi fino a dove possiamo spingerci perché questa attrezzatura innovativa consente una quantità di esperienze che per i ragazzi saranno assolutamente belle, ricche di entusiasmo.